Musica Ehi, ciao! Ma tu sei Fiona Ciacalli, la Tech Princess? Certo, sono Tech Princess! Ma tu lo sai che ci puoi sentire anche su Radio Number One? Radio Number One? Ma purtroppo sono del sud, non riesco ad ascoltarvi Ma che problema c'è? Radio Number One potete sentirla non solo alla radio, alla vecchia maniera ma anche online su www.radionumberone.it oppure scaricando l'app per Android e iOS che si chiama ovviamente Radio Number One Se non lo sapessi, tutti i lunedì dalle 9 alle 12 ringraziamo i bau che fanno bau Nel caso non lo sapessi, tutti i lunedì dalle 9 alle 12 mi troverai in studio con il buon Luca Viscardi tutti gli altri giorni in giro per il mondo quindi mi raccomando scaricate l'app oppure andate sul sito Ciao!